La banca Carige è una banca che ha tanta voglia di rilancio? Assolutamente sì, ci stiamo provando con tutte le nostre forze, vogliamo riuscire in questo progetto che stiamo portando avanti, di una banca del territorio, una banca vicina alle famiglie, vicina alle imprese, mai come adesso riteniamo di poterci riuscire, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, tutti i nostri uomini, abbiamo gestori dedicati per tutto quello che possono essere le esigenze delle imprese, delle famiglie e per rendere i nostri clienti anche più consapevoli dei loro investimenti e dei loro bisogni. In banca del territorio vogliamo tornare a essere, siamo tornati, lo riteniamo in maniera forte, ma con i piedi per terra, con l'umiltà di chi vuole fare le cose bene, a costo di attendere ancora un attimo, ma di fare le cose bene. Per noi è importantissimo avere la risposta dei clienti, una risposta che deve venire rapidamente perché noi molto rapidamente abbiamo cercato di mettere in campo forze, energie, risultati fatti. Francesco Fuselli, amministratore delegato di Banchiero e Costa, un'azienda che è un'eccellenza per Genova, per la Liguria e che ha un rapporto storico con Banca Carige. Sì, certamente, da 50 anni, il nostro gruppo è stato fondato nel 1968, da sempre Banca Carige ha rappresentato e rappresenta ancora oggi la banca di riferimento del gruppo, ci ha accompagnato nel nostro processo di crescita e nei nostri piani di sviluppo e in essa abbiamo sempre trovato una controparte, un interlocutore che ha ascoltato le nostre idee e ci ha supportato nei nostri piani. Il gruppo è iniziato, la società è stata fondata dai due soci fondatori nel 1968, oggi siamo ancora nello stesso stabile e con filiali un po' in giro per tutto il mondo, da due persone siamo passati a più di 200 e in questo sviluppo ovviamente anche il ruolo di Banca Carige è stato sicuramente determinante.